5-9, Chiara Pendino 35-3, Morano 11, Napoli 4-2, Airao del 4-1. È chiaro, una primissima tendenza, devo dire che anche se Fassino dovesse allargare questo dato rispetto a Pendino, è chiaro che la prestazione dei 5 Stelle, se si confermasse un'informazione simile a questa, è certamente importante e la performance di Napoli ha al di sotto delle aspettative che lo davano attorno al 7-8%. Per quanto riguarda Forza Italia.